Sono David Papine e sono un po' di anni che la parte del mio lavoro che riguarda il coaching, il counseling e la formazione ruota intorno più o meno sempre agli stessi temi, che sono anche gli argomenti su cui sono più appassionato e allora ho deciso di offrirli sotto forma di video. Oggi parliamo di intelligenza emotiva e sostanzialmente di che cosa vuol dire essere intelligenti emotivamente. Dal mio punto di vista se siamo capaci di essere intelligenti emotivamente quello è lo strumento fondamentale che serve per, dal mio punto di vista, vivere, oltre che fare professioni d'aiuto come quella che faccio io. Quindi immagino che avrete sentito la parola intelligenza emotiva un sacco di volte e forse avete anche un'idea di che cosa vuol dire. Io vorrei mantenerla, siccome sono un irabituato non alle teorie ma alle pratiche, vorrei mantenerla piuttosto, come dire, terra terra se mi permettete l'espressione. E quindi in generale cosa vuol dire essere intelligenti? Intelligenti vuol dire, ho qua una slide di intelligenza emotiva, vuol dire essere capaci di leggere dentro e di raccogliere le informazioni che ci sono. Questa è l'intelligenza in generale. Voi siete intelligenti se riuscite a capire le informazioni che vi circondano, raccoglierle e in base a quelle informazioni agire in qualche modo. Questa è una definizione generalissima di intelligenza. L'intelligenza emotiva è lo stesso, ovvero è la capacità di prendere delle emozioni, le proprie, quelle degli altri, utilizzarle come informazioni e decidere che cosa farne. Mentre pensavo a questa lezione mi sono detto qual è la, come faccio a fare un esempio. Allora dovete sapere che in questo momento io sono, come dire, come molti genitori che hanno figli piccoli, come dire, mi sparo una quantità di cartoni animati immensa e in più me li sparo molte volte lo stesso cartone. Allora tempo fa stavo guardando un pezzetto dell'era glaciale 1 in cui ci sono tre personaggi che a un certo punto rappresentano secondo me il migliore esempio di intelligenza emotiva in un minuto di video. Per cui ve lo faccio vedere. Il video dura un minuto, quello che avete appena visto, e un minuto è anche un tempo abbastanza lungo per esercitare l'intelligenza emotiva, nel senso che molto spesso lo facciamo anche in tempi inferiori. In quel video lì, che probabilmente conoscete, chi è che è intelligente emotivamente? Avete tre personaggi, avete Manfred, avete Sid e avete Diego. Diego è la con i denti a sciabola, Manfred è il mammut e Sid è il bradipo che parla continuamente. Ovviamente la persona intelligente o l'animale intelligente o il cartone intelligente in quel caso è Diego, per due motivi fondamentalmente. Uno perché si accorge che Manfred sta provando qualcosa, Manfred sta guardando una scena e prova qualcosa. Diego si accorge e quindi si accorge dello stato emotivo di Manfred. Due, fa una cosa, che è dire a Sid, che invece non si è accorto di niente e continua a parlare, a straparlare, dice a Sid di stare zitto. Questa in essenza è la definizione di intelligenza emotiva. Percepisco un'emozione, in qualcuno ma potrebbe essere in me stesso, e faccio qualcosa. Allora può sembrare banale, ma di solito, perlomeno dall'ultimo secolo, siamo stati abituati a far coincidere queste due cose. Tanto è vero che, non so se avete notato, ma c'è questa incredibile coincidenza che emozione fa rima con azione e che significa che, io dico sempre che un'emozione chiama un'azione. Quindi sostanzialmente noi cosa facciamo? Sappiamo che gli altri provano emozioni perché fanno qualcosa. È molto difficile che separiamo i due momenti, cioè quello in cui percepiamo un dato emotivo e poi decidiamo rapidamente che cosa fare. le persone capaci di intelligenza emotiva sono capaci di percepire, agire, ma nel mezzo mettono un'intenzione. Quindi non fanno coincidere i due aspetti. Vi faccio vedere un'altra slide che sostanzialmente elenca le otto parole su cui vi serve di avere un concetto o comunque di avere un'esperienza e che sono le uniche otto parole che vi servono per essere emotivamente competenti, soprattutto in una relazione d'aiuto, in una relazione educativa che può essere anche quella con i vostri figli, per dire, non necessariamente quella di un operatore, di un counselor, di un coach o di uno psicomotricista. Queste parole sono quelle nella slide. Ne commentiamo una per una. Oggi ci occupiamo sostanzialmente della prima, che è emozioni, ovvero che cosa sono. Poi proverò a dirvi che relazione c'è fra le emozioni e il linguaggio e quindi che cosa possiamo fare con il linguaggio riguardo all'intelligenza emotiva. Poi cercheremo di capire che cos'è l'ascolto empatico e a questo punto avremo un'idea abbastanza chiara di come funziona l'intelligenza emotiva. E poi parleremo anche di aspetti un po' più legati a temi che riguardano la relazione, quindi temi che riguardano non tanto solo l'intelligenza ma anche che cosa posso fare con l'intelligenza per migliorare i miei interventi o le mie relazioni, anche quelle interpersonali. Quindi la prima cosa che ci serve capire è che cosa sono le emozioni. Allora, come in molti casi, io ritengo che ci sia in questo momento un sacco di scienziati che sanno esattamente di cosa stiamo parlando. Dopodiché poi l'applicazione pratica di quelli come noi che fanno formazione, che cercano di aiutare i clienti, è molto sconnessa da queste informazioni. Di solito la scienza come funziona? Funziona così, trova una patologia, qualcosa che non funziona e sulla base di quello si fa venire un'idea di come funzionano le persone normali. Una di queste persone è quello nella slide, il signor Cotard, Jules Cotard, che era un medico. Un giorno a questo signor Cotard arriva un paziente e dice, dottore io ho un problema, mia moglie non è più mia moglie, nel senso che io mi sveglio la mattina e accanto a me c'è una persona che assomiglia assolutamente a mia moglie, anzi è proprio uguale, ma io so per certo che non è lei, me l'hanno sostituita. Il dottor Cotard, anche se era un medico dell'Ottocento, trovava questa cosa abbastanza strana e quindi cominciò a indagare il paziente. Il paziente era realmente convinto che quella persona, ma anche altre persone che conosceva da una vita, eccetera, non fossero più le persone che erano. Il dottor Cotard ha dato il nome alla relativa sindrome, che è una sindrome abbastanza rara, ma ci serve per capire cosa sono le emozioni, perché le persone con la sindrome di Cotard hanno una sconnessione all'interno del loro cervello tra la zona delle emozioni, il sistema limbico, l'amigdala e i lobi frontali e quindi sostanzialmente non sono capaci di percepire i dati emotivi all'interno delle relazioni che hanno con persone che conoscono. È un problema neurologico specifico, per cui non è che non provano emozioni, ma le emozioni non arrivano più alla parte dell'emisfero cerebrale che le processe in modo conscio. Quindi quello che succede in questo caso è che se io non ho un dato emotivo da processare, ritengo di non conoscere più nessuno, anche se dal punto di vista cognitivo io so perfettamente che quella è la persona che ho sposato, che quello è l'amico che conosco e così via. Quindi se veniamo privati delle emozioni, siamo privati della capacità di avere una qualsivoglia tipo di relazione. Per il resto funzioniamo perfettamente. Il paziente dottor Cotard lavorava, si alzava tutte le mattine, non aveva nessuna patologia, salvo che era sostanzialmente solo al mondo, perché non riconosceva più nulla dal punto di vista emotivo delle proprie relazioni. Un altro signore, un altro dottore, in questo caso qualche decennio dopo, il dottor Capgrà, che era un medico militare, quindi anche abituato a situazioni piuttosto gravi, un giorno si trovò con un paziente con questo problema. Il paziente diceva, dottore io ho la certezza di essere morto. Questa certezza in questa persona rimaneva tale anche se qualcuno lo pungeva con un ago. La sindrome di Capgrà, anche in questo caso prende il nome da questo raro caso di problema cerebrale, è dello stesso tipo dell'altra, ovvero è una situazione in cui la persona in questo caso non percepisce più i dati emotivi relativi a se stesso, non si sente più, per cui è perfettamente normale, perfettamente in grado di funzionare, è una persona a tutti gli effetti normale, salvo che ritiene di essere morta perché non percepisce più i propri dati emotivi. Entrambe le sindrome non sono né contagiose né molto diffuse, però servono a capire che la nostra capacità di provare emozioni è del tutto fondamentale, è l'unica cosa che ci serve per poter stare al mondo realmente. Se perdiamo quella capacità non abbiamo più la capacità di essere in relazione con il resto del mondo. Quindi dal mio punto di vista le emozioni sono come le mani, io non passo la giornata a guardare le mie mani, a essere affascinato da come funzionano e dal pollice opponibile, però le ho e le uso. Mi accorgo di quanto sono importanti quando non le posso usare, quando sono bloccate o quando hanno qualche tipo di malfunzionamento. Le emozioni sono dello stesso tipo, tutti noi nasciamo, specie Homo sapiens, con una capacità di percepire dati emotivi che è talmente estesa che diventa assolutamente un dato di fatto, non ci facciamo mai caso, salvo quando la perdiamo. Allora dal punto di vista poi scientifico i ricercatori si sono sempre dibattuti su quante sono le emozioni, se ci sono emozioni primarie, emozioni secondarie, che rapporto c'è tra le emozioni, l'umore e così via. Però il dato importante, perlomeno per chi lavora nel mio campo, non è tanto la teoria delle emozioni, nella slide che vedete adesso potete guardarle, ci sono varie teorie, ma la parte importante è capire che sono un equipaggiamento standard per ciascuno di noi. L'unico problema è che spesso questo equipaggiamento standard non viene utilizzato o comunque viene dato per scontato. Allora non c'è nulla di male a darlo per scontato nella nostra vita privata, ma quando io comincio a fare una professione di aiuto, che professione di aiuto per me significa il coach, il counselor, il terapeuta, ma anche lo psicomotricista, la maestra, chiunque nella sua professione abbia come importante parte essere in relazione con gli altri, a volte le emozioni se non vengono in qualche misura allenate rischiano di portare fuori strada. Soprattutto diventano degli automatismi, non so se avete mai visto un bambino che corre o che è arrabbiato, i bambini sono tali perché le loro emozioni diventano immediatamente delle azioni, sono contenti, fanno qualcosa, sono arrabbiati, fanno qualcos'altro, ma le due cose coincidono. Uno degli obiettivi di chi lavora nell'educazione è quello di riuscire a tenere le emozioni e contemporaneamente a decidere che cosa fare, senza che questo sia un automatismo, ho paura, scappo, sono arrabbiato, scappo, picchio, mi blocco e così via, ma mettere nel mezzo quella che si chiama un'intenzione. Grazie a tutti.